Sì, sì, questa è diretta così, come conferenza. So coach, congratulations with the win. Today it's 3-0 against Faroe Islands. Maybe your commentary about this match. Puoi avere un commento per questa partita? Ma, è stata una partita nel primo tempo difficile. It was a game really hard, very difficult for us. Ci siamo trovati la squadra che, insomma, ci si aspettava. Una squadra che è tutta sotto la linea della palla, nella loro metà campo. In front of us we have one squadra really compact and then in the east side was really compact. Una squadra che gioca a rubare palla e poi ripartire. You want to keep the ball and then you want to restart so quickly. Avevamo dato indicazioni di avere tranquillità e pazienza perché prima o poi sicuramente saremmo riusciti a segnare perché eravamo consapevoli di avere un'organizzazione delle qualità migliori. We teached already, we already told with the players that you have to wait, they have to stay quiet and then you can see that in some individual or in some group we can arrive to find and then to try occasion to score the goal. And then there was that they learned really and then there was a play during the game. that we were really happy for that. Maybe you can mention some players in your team who played well today. Poi menzioni a qualche giocatore che ha fatto la differenza e che comunque si è stato più soddisfatto rispetto magari anche a better group. Difficile dire perché comunque ognuno fa la sua parte per le capacità che ha. Difficile to say that one is better than the other because in different rules and in different parts of the pitch you know they have a different quality and then at this level for the group it's difficult really to mention one. La squadra è un puzzle, c'è chi fa gol, c'è chi fa l'ultimo passaggio, c'è chi difende e aiuta questi a fare questo. So as you know that different players have a different mention during the game and on the pitch so that's mean that one score the goal, the other one if I have the last passage for him to cross or maybe some defender, some... Se devo scegliere un giocatore? If they had two choices, one... Il portiere. Goalkeeper. Goalkeeper. Yeah. Non ho mai parato. But this was not really hard job for him. And the next match will be against the Croatia. What would be the task for this match? Una partita difficile. Una partita difficile dove ho già detto ai ragazzi che... Insomma, l'impegno va onorato fino in fondo e quindi noi dovremmo cercare di giocare questo torneo fino alla fine nelle migliori nostre condizioni e possibilità. Till the end we are really... It's our tournament, this group is really strong and then we are not to lose concentration about. So for us it's really important to continue in this way, to continue till the end of this mini tournament for this group. For us it's really important because to take the concentration, also for us each step is really important and also Croatia is a good squad. So we have to respect them. Thanks. Ok, sufficiente. Thank you. Good luck. Thank you. Grazie, grazie.